I big del Partito Democratico tornano a riunirsi a Cortona dal 1 al 3 di luglio, si alterneranno parlamentari, rappresentanti della società civile e domenica le conclusioni di Dario Franceschini. Sarà il ricordo del padre di Davide Sassoli, Occhetta, ad aprire la tre giorni di area DEM, l'area politico-culturale del PD nata dall'esperienza delle primarie del 2009 e che fa riferimento al ministro della Cultura, appunto Dario Franceschini, e al presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino. Sarà proprio quest'ultimo ad introdurre una riflessione sull'Europa, sulla guerra e sul sostegno all'Ucraina. Da venerdì a domenica sono previste le presenze del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del ministro del Lavoro Andrea Orlando, della Capogruppo Democratica alla Camera dei Deputati Deborah Serracchiani, del capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Brando Benifei e di Graziano Del Rio e Paola De Micheli. Tra gli incontri più attesi, quello di venerdì 1 luglio, alle 20, tra Enrico Letta, segretario Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e Roberto Speranza, ministro della Salute, sarà Lucia annunziata ad intervistarli. Il filo conduttore scelto per la tre giorni è quello della transizione declinata sotto il profilo ambientale, economico, sociale e istituzionale. La giornata conclusiva, quella di domenica 3 luglio, che vedrà l'intervento di Dario Franceschini, ospiterà anche una riflessione sulle recenti elezioni amministrative e sui trend da tenere d'occhio verso le prossime elezioni politiche.